Franco Zucculini, brutto però chiudere così davanti ai tifosi del Verona, una sconfitta per il Verona, adesso comunque resta solo una partita per concludere questo campionato. Sì ovviamente, resta una partita che ancora si deve giocare con lo stesso atteggiamento di Oshii, ovviamente dispiace molto la situazione, tanto ai cacciatori come allo staff, come alla gente ovviamente, si capisce anche il tifoso che vuole lo stesso risultato di noi, allora dispiace tanto, però dobbiamo imparare degli errori che si sono commessi per in un futuro non riuscirli a fare di nuovo, imparare, e quelli giovani che sono qua, anche imparare di questa situazione per il prossimo anno, e il prossimo anno chi resta? Cercare di portare il Verona dove merita, che è la Serie A. Parliamo di futuro, ci sono le basi, comunque su cui ripartire, ci sono dei giovani forti, di proprietà, su cui il Verona ha investito e su cui appunto si deve ripartire. Assolutamente, ci sono dei giocatori che hanno un futuro gigante, solamente che magari in Serie A il tempo non ti lo perdona, no? In Serie A è tutto subito, risultati subito, magari tanti giocatori hanno bisogno del tempo di crescita, allora quella è stata una cosa incontro nostra, no? Però penso che per il prossimo anno questi giocatori daranno il massimo, cresceranno anche come calciatori, allora sarà una bella sfida anche per loro, no?